Sono l'architetto Fasano dell'Enea, appartengo all'unità tecnica per l'efficienza energetica, mi occupo di efficienza energetica nel settore del civile e sono un esperto in materia, almeno così dicono. Oggi ci troviamo ad affrontare un problema molto sentito a livello europeo e a livello nazionale che è quello del contenimento dei consumi energetici dei nostri edifici e soprattutto l'ambizione di arrivare a realizzare edifici ad energia quasi zero, sia per i nuovi edifici sia per quelli che vengono ristrutturati con degli interventi molto profondi, diciamo Deep Innovation, quindi intervenendo sull'involucro e sugli impianti. Il tema è sicuramente uno di quelli che rappresenterà una sfida a livello europeo e a livello nazionale e sul quale il legislatore ha promosso una serie di normative che dovrebbero facilitare il mercato dal punto di vista tecnico. Dobbiamo adesso anche cercare di trovare la giusta formulazione per poter supportare questi interventi anche dal punto di vista finanziario. Chiaramente, come ho detto, è una sfida e questo è uno di quei punti di eccellenza in cui lanciare la sfida d'obbligo. Poi sperare che venga accettata da tutti gli operatori del settore è l'augurio che tutti ci poniamo.